Andiamo a vedere quali sono le notizie che arrivano del territorio. Sassari Notizie, Nicola Sanna vicini al ragazzo aggredito. Il primo cittadino di Sassari chiede scusa a nome della città per quanto accaduto ad un giovane spagnolo che nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito in piazza d'Italia da alcune persone. Non solo lui ma anche tutti gli altri ragazzi che erano con lui sono stati aggrediti da una gang. La nuova Sardegna trasporti aerei 4,5 euro in meno per i voli da Cagliari verso Roma e Milano. L'annuncio arriva dalla regione. Grazie al calo del prezzo del carburante cala del 10% il costo dei biglietti della continuità territoriale. Si parla ancora di aerei su alger.it in primo piano i dubbi che riguardano le diverse tratte presenti ad algero fino all'ultima stagione e che ad oggi non sono prenotabili sul network della compagnia low cost irlandese. Ovviamente si parla di Ryanair, tante incognite sullo scalo dai contributi di marketing alla privatizzazione. Le incognite quindi estive su 13 voli, su 23, non sono attualmente prenotabili. Andiamo a Olbia, immagini molto forti che ovviamente non vi faremo vedere. Olbia.it, un'attrice scoperta, Golfo Aranci, un cane è stato ritrovato impiccato. Ecco quindi la violenza che continua nei confronti degli animali. Cronache Nuoreisi, presunti killer di Lula, noia e stranei, ai fatti, secondo gli inquirenti, il fratello di Angelo Maria Piras sarebbe stato proprio l'assassino. Quindi Francesco Piras e sua moglie Alice Flore sono stati arrestati all'alba di ieri dai carabinieri perché ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio del fratello di lui, Angelo Maria Piras, che fu ucciso il 25 gennaio scorso. Su illatv.it, il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Intanto si celebra anche il 97esimo anniversario della fine della Grande Guerra e una celebrazione che si terrà anche a Cagliari, oltre che nelle altre città sarde. Cagliari Pad, bandiere tamburi a Teulada, al via il presidio Nobasi, è iniziato così il siting di protesta contro i poligoni e le esercitazioni della Trade and Juncture di fronte alla base di Teulada. La protagonista è un gruppo di antimilitaristi e l'antipasto di ciò che dovrebbe accadere oggi con la manifestazione che partirà alle 10.30 da Portopini. Qui vediamo una foto notturna. Infine, l'Unione Sarda.it, ancora un allarme sui monti tra Sinai e Castiadas. In due diverse località risultano disperse tre persone uscite nella mattina alla ricerca di funghi. ovviamente ci si riferisce alla mattina di ieri e le ricerche sono scattate da parte delle forze dell'ordine. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.